Sono stati annunciati ieri gli studenti marchigiani vincitori di Scuola di Alternanza, progetto promosso dalla Camera di Commercio delle Marche che vuole dare visibilità attraverso dei videoracconti all'esperienza di alternanza scuola-lavoro vissuta dagli studenti di diverse scuole della regione. Tante le tematiche al centro dei progetti vincitori per i quali è stato previsto anche un contributo economico, dal sociale alla poesia, dal patrimonio storico delle città alla sicurezza. In totale sono state nove le classi e di conseguenza gli istituti premiati, per i quali è stato mostrato un video che ha raccontato il lavoro svolto. Tra i vincitori anche due rappresentanze provenienti proprio da Pesaro, la classe quarta N del liceo Marconi che ha ideato la costruzione di un box per disinfettare gli indumenti e la terza A del Bramante Genga, che ha invece illustrato Wallis Security, progetto relativo alla creazione di un portafoglio con lucchetto per proteggere da eventuali furti e per il quale la Camera delle Marche ha manifestato il proprio impegno per procedere con la brevettazione. Come la didattica, anche la premiazione si è svolta online, preceduta da una breve riflessione del presidente Gino Sabatini sul progetto e sulla complicata situazione attuale per il mondo scolastico a causa della pandemia. È evidente che il Covid ci ha restritto le misure, la didattica a distanza hanno bloccato questo utile ed efficace rapporto tra sistema scolastico e sistema delle imprese, ma sono certo che la ripresa completa delle attività consentirà la ripresa piena anche del progetto di alternanza scuola-lavoro. Sto parlando di un investimento formativo ed educativo che può dare vita a una regione più forte, a un Paese più solido, ma soprattutto a una società più aperta ed inclusiva. Ecco perché mi piace in questa sede fare un riferimento anche ai progetti che hanno caratterizzato questo straordinario scambio. Nella maggior parte dei casi si sono caratterizzati per un elevato standard di innovazione tecnologica e come Presidente della Camera del Commercio delle Marche, ente nel quale sono presenti tutte le associazioni di rappresentanza, quella degli inventori e quella dei lavoratori, essere testimoni di progetti così qualificanti mi inorgoglisce e conferma la mia certezza. Le Marche sono una regione straordinaria. Sono perfettamente consapevole che le lezioni in via digitale stanno aprendo vecchie e nuove fratture. Mi riferisco ad esempio alle penalizzazioni verso chi non si può permettere un computer in casa, verso chi non ha un collegamento internet stabile e veloce. Stanno aumentando le diseguaglianze, temo che ci si stia verificando un progressivo silenzio e abbandono di studenti. Abbiamo bisogno che le lezioni tornino, e me lo auguro veramente, tornino in presenza e che lo sguardo dell'insegnante in classe torni a monitorare velocemente le richieste degli allievi e le sensazioni che gli allievi hanno in quel momento. Il progetto è stato confermato anche per la sua quarta edizione e il bando è già online sul sito di Camera Marche. Gli audiovisivi potranno essere inviati fino all'8 ottobre 2021.